La Guardia di Finanza di Agrigento ha individuato, coordinata dalla Procura di Agrigento, il tesoro di Giuseppe Burgio, l'imprenditore agrigentino arrestato lo scorso novembre nell'ambito dell'operazione Discount, perché ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta per un importo complessivo di 50 milioni di euro. Dunque sigilli per 16 milioni e mezzo di euro rappresentati dal patrimonio immobiliare della Hopaf SRL di Portempedocle, società immobiliare a suo tempo amministrata da Giuseppe Burgio. Le quote societarie erano già state sequestrate sul provvedimento del Tribunale per le imprese di Palermo a seguito dei fallimenti che coinvolsero le società attive nel settore della grande distribuzione organizzata e già sottoposta ad amministrazione giudiziaria. Adesso, facendo parlare le carte firmate dal GIP provenzano che dispongono il sequestro, è possibile avere un quadro ancora più preciso e con riferimento alla società Gestal SRL è possibile altresì inquadrare il turbinio di false operazioni e intrighi che hanno portato Burgio a distrarre enormi somme prima e in carcere poi. Soprattutto si comprende a chiare lettere che si sta procedendo con separate inchieste, oltre che per Burgio anche con i complici che hanno determinato il crack fraudolento e funzionari di Unicredit SPA che hanno consentito a Burgio di ottenere ingenti provviste di denaro senza averne i requisiti. Inchieste che hanno in rubrica nomi e cognomi e di cui sentiremo parlare nelle prossime settimane. La Guardia di Finanza sta ultimando le notifiche ai 32 indagati dell'inchiesta BIS sulla presunta bancarotta fraudolenta delle imprese di Giuseppe Burgio. Il PM Brunella Sardoni, che da pochi giorni ha lasciato l'ufficio, ha fatto notificare altri 32 avvisi di conclusione delle indagini nei confronti di imprenditori e commercialisti che avrebbero avuto ruoli nelle imprese di Burgio e bancari che ne avrebbero curato i rapporti finanziari. Lo stesso Burgio è nella lista degli indagati, ma sembrerebbe per fatti ulteriori a quelli che hanno portato all'arresto. Ai 31 indagati viene contestato di aver avvallato o svolto in prima persona operazioni di dispersione del patrimonio delle società di Burgio. Intanto l'avvocato Carmelita Daniele, difensore di Giuseppe Burgio, ha presentato istanza di scarcerazione alla Corte di Cassazione per il suo assistito. La decisione dei giudici della Suprema Corte sarà presa nelle prossime ore.